Buona domenica 5 giugno. La liturgia cattolica di oggi ci offre delle letture particolarmente significative per una riflessione che sia antropologica, non strettamente confessionale, aperta a credenti e non credenti. Questo è comunque il mio modo di leggere la domenica le letture che vengono da una sapienzialità antica e attuale allo stesso tempo. Pentecoste sono 50 giorni dopo la Pasqua e gli atti degli apostoli ci offrono una rappresentazione particolarmente significativa della dimensione dello spirito. Noi in questi anni all'interno dei programmi dei club abbiamo imparato a usare una terminologia che allude costantemente alla dimensione spirituale, da un punto di vista antropologico, non confessionale, ma che include in sé anche elementi legati alle fedi religiose, alla disponibilità da sempre dell'essere umano a confrontarsi con la dimensione del mistero, con la molteplicità interpretativa, culturale, attraverso la quale noi cerchiamo di dare senso alle nostre esistenze. Anche quando sembrano traballare essere particolarmente inclini a stati crepuscolari, a paure, stati di angoscia, fino alla costruzione di mondi immaginati nei quali ci rifugiamo, in un atteggiamento che viene definito sostanzialmente autistico, ma la nostra vita resta comunque consegnata all'esplorazione del mistero dell'esistenza. Credo che questi testi, che datano duemila anni di percorso evolutivo dell'umanità, noi ci rivolgiamo a quei testi e contemporaneamente cerchiamo di saldarli con la nostra esperienza e con l'accumulo di esperienze che l'umano ha saputo intessere tra chiari scuri lungo il percorso di abitazione su questa terra. Gli Atti degli Apostoli ci ricordano come, mentre erano riuniti, accade un fenomeno piuttosto sorprendente. Lingue di fuoco si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Non è un miracolo di traduzione simultanea o un'improvvisa dimensione poliglotta dei discepoli, ma accogliendo quello Spirito si esprimono in modo comprensibile anche nei confronti di coloro i quali si trovano lontani, culturalmente prima di tutto e naturalmente anche linguisticamente, non è semplicemente una traduzione sintattica, lessicale, da un linguaggio all'altro. È un'apertura alla comprensione che credo che anche nella contemporaneità sia estremamente necessaria. Noi viviamo una contingenza storica caratterizzata da un dominio globale che vorrebbe anche in qualche modo imporci una lingua unica. Vecchio mito anche questo, delirio di ogni potenza che porta a immaginare che si possa interpretare il mondo da un solo punto di vista. A questo si contrappone ogni forma di nazionalismo esasperato e chiuso alla traduzione, alla comprensione che non si fa abitare da questo spirito unificante e diversificante allo stesso tempo, nel senso che fa sì che ci possiamo comprendere, ma a partire da una irriducibile biodiversità. A questo proposito ricordo come una espressione secondo me molto efficace, che era il locale nella quale si trovava sintesi tra gli aspetti globali di questa unica terra che noi abitiamo e contemporaneamente si mette in evidenza la diversità del nostro abitare anche linguistico. Quel locale avrebbe dovuto orientare un modo di vivere che fosse molto attento alla realtà comunitaria, all'uso parsimonioso delle risorse laddove noi viviamo, senza nessun desiderio di appropriazione che porta inevitabilmente a una conflittualità guerresca. In questo caso invece avviene un fenomeno straordinario che sarebbe quanto mai necessario anche nel nostro tempo per poterci meglio comprendere. Siamo a Gerusalemme e lì abitavano molte genti, molti popoli di diversa cultura e diversa lingua e improvvisamente incominciano a comprendersi, non attraverso un linguaggio unico, ma attraverso la molteplicità dei linguaggi e la disponibilità di apertura nei confronti di ciò che viviamo come estraneo a noi. E si meravigliano coloro i quali sono protagonisti di questo episodio. Ci ricorda questo passo degli atti degli apostoli che sono, queste genti sono parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino a Cirene, romani, qui residenti, giudei e proscritti, cretesi e arabi. E si meravigliano perché gli udiamo parlare nelle nostre lingue. e ci parlano delle grandi opere di Dio. Non è un linguaggio astratto, è circostanziato per i credenti grandi opere di Dio, per i non credenti del grande mistero della vita che noi abitiamo, siamo attraversati, siamo resi responsabili rispetto a ciò che accadrà in futuro e contemporaneamente siamo condizionati da ciò che è già accaduto e viviamo intensamente il presente nella sua peculiarità, anche nella sua parzialità. Quindi diciamo che la Pentecoste, la discesa dello Spirito, è un richiamo nella visione antropo-spirituale a una riconciliazione delle diversità che sono ricchezza, non sono limiti alla vita comunitaria, tutt'altro, è solo nel rispetto della diversità che possiamo vivere autenticamente la vita comunitaria, non erigendo confini tra le lingue e tra le nazioni, utilizzando naturalmente le risorse del pianeta, che non possono essere proprietà di qualcuno, ma devono essere usate prima di tutto a livello locale. Qui si aprirebbe un grande discorso ecologico relativamente all'uso delle risorse naturali che vengono appropriate. Pensate all'acqua, c'è stato un grande referendum al quale hanno risposto con saggezza i cittadini, l'acqua è pubblica e di tutti, non può essere incamerata nella logica del profitto, privatizzata, perché privatizzare significa privare il bene comune di una risorsa che appartiene a tutti, l'acqua, non potremmo aprire questo ragionamento anche su tante altre risorse. Ecco, però facciamo molta fatica. E visto che siamo domenica, io vi propongo come sempre la poetica di un salmo, salmo della domenica. Benedici il Signore anima mia. Sei di tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le Tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle Tue creature. Questa è un'immagine autenticamente poetica della ecologia, che costituisce questo immenso e splendido organismo che si è generato nella bellezza della vita. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo respiro, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Ecco, questo andi riviene tra morte e vita, ci consegna all'eternità della vita stessa, nella bellezza della terra, perché è una bellezza che è all'insegna del costante rinnovamento. Questo ci permette un grande slancio verso la liberazione dell'angoscia di morte che ci spinge a trattenere, non a rinnovare. Noi abbiamo bisogno di rinnovare, non di trattenere e conservare. Entrare in una logica di trasformazione e transizione costante. Noi viviamo nella trasformazione e nella transizione. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui si è gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. E questo brano intensamente poetico ci spinge oggi a vivere intensamente la dimensione della gioia. Ma poi c'è anche la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, il quale si esprime così. I fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne, non possono piacere a Dio. Qui naturalmente potrebbe nascere un equivoco, perché sembra quasi immaginare una vita che è al di fuori della materialità della carne. Ma non è così. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito. In realtà questo brano, che spesso viene mal interpretato di San Paolo, richiama una necessaria unitarietà tra spirito e carne, superamento di ogni dualismo e allusione chiara, esplicita alla necessità di vivere in una condizione materiale animata, non disanimata. Noi viviamo nella concezione dell'umano come macchina senza anima, perché naturalmente non abbiamo strumenti scientifici per poter misurare e fotografare l'anima. Pertanto facciamo finta che siamo dentro un corpo che è pura materia, senza quella dimensione spirituale che è nella relazione. Noi siamo coevolutivi con la relazione, non abbiamo nessuna identità fissa e immutabile, perché è costantemente abitata la nostra identità, dal tratto evolutivo di un'anima che ci attraversa e appartiene alla collettività, non solo alle relazioni tra gli esseri umani, ma anche tra noi e il vivente, la natura, quella prospettiva geopolitica che si lascia illuminare dall'ecologia profonda, dall'ecologia integrale. Qui naturalmente è una professione di fede e immagino che le persone che sono non credenti diranno ma io cosa c'entro? Eppure io penso che queste sollecitazioni, anche se parlano di Cristo, di Gesù, sono profondamente antropologiche. Scompriamo il campo dei pregiudizi di essere credenti o non credenti, apriamo realmente la nostra coscienza, ciò che viene profondamente detto in questi passaggi. Ora se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, quindi l'accoglienza della dimensione dello spirito ci libera di questa dimensione del peccato che è l'ansia di predazione, di possesso, di indisponibilità, di riconoscerci nella sacralità delle relazioni nelle quali noi esercitiamo l'etica della responsabilità. perché dice ma lo spirito è vita per la giustizia, vita autentica, vita che fluisce, vita eterna ma concretizzata nella dimensione della giustizia. E se lo spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dei morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dei morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Qui c'è una apertura ad ampio raggio della dimensione autentica della vita. Attenzione ma ricordiamoci sempre questa infinita dimensione dell'amore misericordioso dello spirito che guarda come priorità alla dimensione della giustizia. La giustizia non è pura ingegneria giuridica. La giustizia è amore per il prossimo, è vita intensa nella relazione ma la vita intensa nella relazione è possibile solo se noi usciamo da questa prospettiva dualistica nella quale poniamo sia attenzione il nostro corpo ma ci dimentichiamo che siamo in relazione attraverso questa dimensione del legame che è puro spirito, che è spirito incarnato. Ecco questi sono passaggi credo di una ricchezza straordinaria. Così dunque fratelli noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece mediante lo spirito fate morire le opere del corpo vivrete. Guardate questo passaggio dovremmo ripetercelo, lo sto ripetendo per sottolineare questa necessità di superare questa visione che è anche abbastanza consolidata recentemente dall'organicismo disanimato, questa attenzione al dettaglio corporeo che ci impedisce di vedere l'immensità complessa della appartenenza. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio, questi sono figli di Dio e per i non credenti si ponga attenzione alla dimensione ecologica, non è uno slogan. Ecologia sociale antropospirituale non è uno slogan, è una dimensione autenticamente culturale che ci porta a vivere intensamente questo superamento del dualismo in nome della complessità dell'esistenza e quindi gli stessi sistemi di cura dovrebbero essere grati a questa sapienza millenaria. La scienza dovrebbe farsi contemplazione senza derogare i principi fondativi della scienza stessa ma rianimandola, mettendoci un'anima che riconosce la complessità del mistero, la provvisorietà della verità che noi scopriamo e quindi sarebbe una scienza gioiosamente abitata e fecondamente intrisa della dimensione di un dubbio che porta inevitabilmente a una ricerca, all'insegna della vita stessa e non al possesso o alla predazione di ciò che costituisce la vita nel nostro pianeta. Quindi io oggi faccio una lettura ecologica. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura. Schiavi e paura qui vengono giustamente associati. Sacchi di panico, altro non sono se non paura. Angoscia e paura si intrecciano in una dimensione di schiavitù. Ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi. Noi siamo figli adottivi e noi generiamo nella adottività, nell'adozione. Nessuno è posseduto da qualche altro in termini di schiavitù. Siamo tutti autenticamente liberi e adottanti allo stesso tempo, il che ci spinge inevitabilmente a porre ascolto allo spirito di appartenenza che si fonda sulla dimensione dell'amore e della giustizia. Questo è lo spirito autentico del club che rimane non confessionale, non legato a una forma interpretativa politica della società, ma si costituisce sulla base della dimensione dell'amore che richiede una vocazione molto precisa, che sappia essere autenticamente ecologica, spirituale. E noi possiamo gridare, come ci ricorda San Paolo, Abba Padre. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, non eredi di patrimoni materiali, disanimati, o eredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Quindi un passaggio che può esserci di sofferenza, di dolore, ma mai chiusa in se stessa questa prospettiva, ma aperta alla gloria, alla gioia, alla dimensione dell'amore. È un inno che questi testi ci consegnano, un inno alla vita, all'amore, quello che dovrebbe rappresentare l'elemento costitutivo dell'esperienza dei club. E poi vi è il Vangelo di Giovanni, il quale ancora una volta, così come continua a ricordarci dopo la Pasqua, ci parla di un Gesù che torna al Padre, che torna al Padre e che consegna ai discepoli e alle generazioni che verranno dopo la necessità di accogliere la dimensione dello Spirito, che porterà in sé l'essenza del suo messaggio, della sua parola, che non viene da lui ma dal Padre. In questa rappresentazione siamo invitati a rileggere profondamente la nostra obbedienza a una parola che è incarnata e allo stesso tempo trascende, che è immanente e ci chiama a essere testimoni di giustizia, di pace, di amore. Tre elementi fondamentali che ci portano inevitabilmente a rivisitare radicalmente la nostra esistenza, i nostri stili di vita, i nostri modi di vivere. Vedete, non c'è nessuna prospettiva di sacrificio astinenziale, ma un invito a vivere intensamente la dimensione della gioia, perché il club con la sua costante presenza nella dimensione dell'amore, della solidarietà, dell'amicizia, di Eros, Filia, Agape, tutto questo ci permette di ricomporre quel dualismo che ha messo da parte lo spirito, che ha separato mente e corpo, spirito e materia. Noi siamo chiamati a rianimare l'esistenza e a assumerci la responsabilità che abbiamo nei confronti della sacralità della vita in questo pianeta. Buona giornata a tutti.